Vediamo oggi come realizzare un semplicissimo preamplificatore microfonico ci servirà per una realizzazione, anzi per alcune realizzazioni simpatiche però prima dobbiamo mettere qualche punto fisso quindi coprire qualche parte teorica che vedremo nei prossimi video oggi ci occupiamo della realizzazione di un semplicissimo amplificatore microfonico iniziamo subito oggi vediamo come realizzare un preamplificatore per microfono a condensatore il microfono a condensatore è un particolare tipo di microfono che è formato da una capsuletta al cui interno ci sono due lamine queste lamine vibrano quando sono colpite dalle onde sonore e vibrando visto che le due lamine sono le lamine di un condensatore quindi sono sottoposte a una certa tensione producono quindi una variazione di corrente questa variazione di corrente può essere rilevata, amplificata e possiamo quindi tirarne fuori un segnale sensato il problema ovviamente, adesso il simbolo è questo qua quindi ricorda proprio il condensatore il problema è che uno va alimentato quindi deve essere messo sotto tensione e questo segnale potrebbe essere molto basso quindi difficile da utilizzare direttamente per questo si usa un preamplificatore vediamo come realizzarne uno utilizzando un LM358 che è un circuito integrato che contiene due operazionali è in formato DIP 4 più 4 l'alimentazione della date sul pin 4 ha questa alimentazione singola quindi funziona sia in duale che singola quindi sul 4 mettiamo il negativo e mentre sull'8 mettiamo il V più nel nostro caso poi alimenteremo a 12 volt abbiamo un operazionale collegato sul lato di sinistra questo ha l'uscita sul pin 1 quindi questo qui è l'out poi abbiamo l'ingresso invertente sul pin 2 e l'ingresso non invertente sul 3 provo a disegnarlo dentro diventa un po' difficile però ce la facciamo ecco quindi uno è messo così l'altro operazionale lo trovate sul lato destro abbiamo l'uscita sul pin 7 l'ingresso invertente quindi il meno sul 6 e non invertente sul 5 io ho usato l'LM358 potete usare un altro operazionale simile quindi cosa cambia? cambia eventualmente la sensibilità il rumore c'è per esempio il TL082 TL072 c'è l'LM339 se non sbaglio ce ne sono parecchi adattatelo imparate ad adattare lo schema a quello che avete in casa partiamo dal nostro microfono che deve essere alimentato lo alimentiamo tramite una resistenza da 10k questa è collegata direttamente a 12 volt e lo mette in tensione ora se arriva qualsiasi variazione dell'aria farà vibrare le lamine e produrranno un segnale il segnale lo portiamo sul primo dei nostri due operazionali quindi realizziamo un doppio stadio perché in questo modo abbiamo un primo operazionale che mette un guadagno fisso facciamo un 10k e il secondo invece è variabile quindi possiamo usarlo eventualmente per variare il volume mettendoli insieme si moltiplicano quindi se io le faccio due stadi da 10k il guadagno totale è poi 100k fa 10x10k andiamo qua a disegnare il primo operazionale ovviamente poi potete fare a scelta quindi collegare uno o l'altro comunque questi sono i pin 8 4k l'alimentazione potete scegliere voi da 5 a 12 volt immaginiamo di metterla a 12 volt realizziamo un ampli invertente quindi ci serve una resistenza messa tra l'uscita e l'ingresso invertente questo resistore che andiamo a mettere qui lo mettiamo a valore fisso da 100k ohm è la nostra R1 su questa arriveremo con una seconda resistenza da 10k se volete poi gli dati i nomi potrebbe essere questo qui la R2 quindi 100k 10k il guadagno che abbiamo è di circa 10 volte quindi configurazione non invertente il guadagno poi in realtà sarà 100k di su 10 più 1 quindi circa 11 possiamo approssimare comunque a una decina di volte il segnale lo preleviamo qui da questo punto dal punto A utilizzando un condensatore di disaccoppiamento metto uno non polarizzato da un microfarad poi il punto 3 che è l'ingresso non invertente dovrei metterlo a massa ma lo portiamo a metà della tensione di alimentazione quindi usiamo collegare due resistenze da 10k 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 e lo colleghiamo qua questo ci fa da riferimento centrale questo circuito potrebbe oscillare quindi spesso troverete in parallelo alla resistenza di retroazione un piccolo condensatore da una decina di nanofarad indico i pin l'uscita è l'1 invertente 2 non invertente 3 l'uscita di questo primo stadio lo portiamo sul secondo realizziamo un secondo stadio invertente quindi abbiamo resistenza R3 10k andiamo a presentarci all'ingresso del secondo operazionale meno più il pin non invertente che corrisponde al 5 lo andiamo a collegare alla coppia di resistore che abbiamo messo qua poi abbiamo la resistenza di feedback posta tra l'uscita quindi pin 7 e 6 qua o la mettiamo fissa o altrimenti se volete avere un volume regolabile mettete un trimmer un trimmerino o un potenziometro lo mettete da 100k o valore simile il centrale poi lo collegate all'uscita infine per prelevare il segnale mettiamo un condensatore che qua da un micro farad non polarizzato e così via il segnale di uscita amplificato che possiamo prelevare utilizzare per i nostri scopi proviamo ad affrontare insieme la messa su breadboard quindi ve lo faccio vedere con Tinkercad Tinkercad non contiene l'M358 cioè ecco qua l'M393 che dovrebbe essere simile andiamo a vedere come possiamo impostarlo cercando di ottenere un circuito più ordinato possibile conviene prima di tutto andare a sistemare la breadboard qui abbiamo i rail positivi e i negativi che non sono collegati allora li metto in comune quindi qui abbiamo il positivo lo porto anche sulle rail inferiori metto colore rosso il negativo lo troviamo qua faccio stessa cosa anche per il negativo lo metto di colore nero ora la nostra breadboard è alimentata poi collegherete qua un alimentatore andiamo ad alimentare il chip ma conviene lo spostiamo di una posizione così è più facile il pin 4 viene collegato al negativo lo mettiamo in nero e il pin 8 invece viene portato al positivo e lo metto in rosso iniziamo ad assembrare il primo stadio il primo stadio dobbiamo vedere lo schema iniziamo a mettere resistenza da 100k tra i pin 1 e 2 i pin 1 e 2 sono questi resistenza da 100k non ci sta a meno che la mettiamo tutta storta possiamo usare un trucchetto che vi permette di creare qualcosa di un pochino più ordinato vi servono quei jumper rigidi ma possiamo mettere resistenza in questo modo e poi tirare un jumper rigido che riporta l'altro terminale sul 2 così abbiamo messo la resistenza di retrazione da 100k l'ingresso avviene tramite resistenza di 10k sul pin 2 quindi il pin 2 è questo qui prepariamo la resistenza ci serve da 10k la ruoto e troviamo un posto in cui inserirla potremmo metterla in questo modo qua così non mi dà fastidio ho l'ingresso sulla parte destra nello schema avevamo poi un condensatore da un micro che posso mettere in questo modo qua se volessi mettere adesso il condensatore tra l'1 e il 2 quindi sopra questi due potrei addirittura prenderne uno questo qui sarebbe da 10nF se seguiamo il nostro schema elettrico lo ruoto e avendo i pin molto più vicini lo posso addirittura infilare qua direttamente ci servono poi le due resistenze da 10k che mi fanno il riferimento per il pin non invertente ne vado a portare una sullo schermo la copio e la incollo così ne abbiamo due le posso mettere un po' dove voglio allora dove dobbiamo entrare? sul pin 3 quindi questo qua potremmo metterle in un posto che non ci danno molto fastidio per esempio le metto qui una è collegata al negativo una è al positivo metto insieme i loro due terminali e ora questo lo portiamo sul pin 3 quindi tiro un filo lo faccio di colore blu così abbiamo realizzato il primo stadio ora possiamo passare al secondo sul secondo abbiamo il trimmer messo tra il 6 e il 7 qui non ho un trimmer posso usare il potenziometro diventa un pochino più difficile allora il trimmer comunque non mi ci starebbe nella zona qui quindi devo tenerlo fuori e l'unico modo per farlo diciamo indolore è quello di eventualmente mettere lateralmente qua il nostro trimmerino e poi portare fuori dei jumper quindi vado a prendere il pin 6 e lo collego a uno delle estremità del nostro trimmer e poi il centrale lo riporto invece sul 7 che poi sarà anche l'uscita quindi questa qui è la retrazione volete mettere il condensatore da 10 nanofarad anche qua è abbastanza semplice quindi lo mettiamo direttamente sui due forellini la resistenza con cui entriamo nel nostro preampli è da 10k la mettiamo girata in orizzontale il pin d'ingresso è il pin 6 allora andiamo a collegarla qua quindi questo qui è il nostro ingresso devo prendere quindi l'uscita del primo stadio e portarla qua l'uscita del primo stadio è sul pin 1 e devo arrivare qui quindi viene un po' scomodo l'unico modo per farla pulita far pulito questo passaggio è usare un jumper diciamo volante lo faccio girare tutto attorno qua cercate di metterlo più breve possibile quindi non metterlo troppo lungo perché questo poi capta disturbi quindi faccio fare il giro e lo porto infine qua sull'ingresso diamogli un colore differente lo mettiamo, faccio viola ok quindi questo porta il segnale poi abbiamo l'ingresso non invertente del secondo stadio che è il pin 5 lo devo collegare sempre le due resistenze qui qua possiamo fare in questo modo tiro un jumperino arrivo qui lo metto di colore blu come l'altro che abbiamo fatto questo gancetto lo tolgo lo rimetto qui sotto così mi libero un pin nella parte sopra e da qua posso scendere sempre con un altro ricamo blu che è un bel giro di jumper abbiamo quasi ultimato ma anche poi il connessatore di uscita quindi prendo un connessatore dal valore di dovrebbe essere un micro farad quindi facciamo un micro farad lo colleghiamo sul pin 7 dove poi prendiamo l'uscita qui siamo un pochino stretti posso utilizzare anche qua il sistema con un jumper volante quindi pin 7 è un po' stretta la cosa ma facciamo così lo faccio girare in modo sporco e questo mi produce l'uscita il segnale di uscita lo preleveremo qua facciamolo in arancione questo qua cosa manca? manca solo la capsula microfonica con la resistenza la resistenza abbiamo visto da 10k non credo che esista prendo questo qua il piezo che ci assomiglia solo nella forma come dobbiamo andare a collegarlo? allora lo provo a ruotare vediamo se riusciamo a metterlo in questo modo lo infilo qui sulla breadboard un'estremità quella inferiore la vado a collegare al negativo mettiamogli un jumper nero poi abbiamo la resistenza che me lo porta sul positivo e questo punto è quello che devo poi portare all'ingresso del nostro preamplificatore che abbiamo messo in questo punto qua quindi dovrei far passare anche qui un bel jumperino che fa tutto il giro quindi il nostro segnale del microfono lo andiamo a far arrivare qua sul condensatore d'ingresso qui mettiamo il colore marrone per cambiarlo questo qua non gli avevamo dato il valore anche se non è molto importante perché tanto non cambia nulla serve solo per sapere come organizzarlo quindi così è come la organizzerei su breadboard vediamo se funziona quindi qui la vedete montata sulla breadboard reale con collegato un piccolo oscilloscopio il DSO Shell quello da 20 euro che rileva il segnale prodotto quindi questo qui che vedete è il segnale amplificato preso sull'uscita qua c'è la radio a qualche metro di distanza vedete il segnale captato è decente potete quindi sfruttarlo per fare altre realizzazioni vedremo qualcosa nei prossimi video per oggi è tutto questo circuito può essere ovviamente migliorato però come sempre è una base di studio per capire come funziona e come posso usare certi tipi di dispositivi potete usare lo stesso schema per provare ad amplificare altri segnali per oggi è tutto vi saluto, vi ringrazio ci vediamo domani ciao